Festa o dramma, non si scappa. Domani in 40 minuti si decide il destino di due formazioni, Fortitudo Agrigento e Viola Reggio Calabria. Per quanto si è visto nella stagione regolare, tra le due squadre c'è un abisso. I biancazzurri di Franco Gianni meriterebbero più di ogni altra squadra e naturalmente più dei reggini la promozione na direttandi. Il campionato dei biancazzurri del presidente, dato a Moncada, che stamani è voluto essere vicino alla squadra, è stato da incorniciare. Un dominio incontrastato che si è protratto dalla prima giornata di campionato fino alla fine. La Viola però ha un pregio e l'unica formazione ad avere battuto già due volte quest'anno gli agrigentini. Era successo nella regular season ed è successo giovedì scorso in gara 2 a Reggio. Eppure anche in gara 2 la sensazione che si è ricavata è che la Fortitudo ha perso una grande occasione per chiudere i conti. Il quindetto di Gianni era partito con la giusta marcia un po' il replay di gara 1. Poi il blackout di 7 minuti nel terzo quarto ha compromesso definitivamente il match. Un po' di delusione in casa biancazzurra si respira, domani sera però bisognerà affrontare la Viola come in gara 1. Non bisogna far respirare i reggini, bisogna stringerli all'angolo, lottare con più grinta e determinazione sotto i tabelloni. Questa squadra non ha nulla da temere ed avrà anche il calore di migliaia di appassionati e tifosi che non faranno mancare la loro presenza. Si prevede una pala Moncada pieno con una cornice di pubblico da mille e una notte. I playoff sono una sorta di secondo campionato. La Fortitudo, al contrario della Viola, aveva superato i primi due turni dei playoff con un doppio 2-0, mentre i reggini sono dovuti ricorrere sempre alla gara di Bella. Nelle gambe delle due squadre non c'è lo stesso fosforo, i biancazzurri sono meno stanchi per forza di cose, ma domani sera però può succedere di tutto. La Viola è tornata a Credec e per l'occasione verrà spinta anche da un centinaio di tifosi che ritorneranno a Porta Empedocle dopo appena sette giorni. La perdente, ricordiamo, andrà a disputare le finali con altre due perdenti degli altri due gironi e una soltanto alla fine verrà promossa in a direttanti. Un'eventualità alla quale la Fortitudo non intende proprio pensare. Domani si può e si deve chiudere il discorso.